Second Life ci riprova. Buonasera, buongiorno, buon mattino, non so quando ascoltate il caffettino, vado pure la rima, pazzesca sta giornata, però parliamo oggi, benvenuta e benvenuto, scusate, parliamo oggi di Second Life, magari i più vecchietti all'ascolto si ricordano di questo social network, se così si può definire, dove fondamentalmente si viveva, questo era l'obiettivo, si viveva una seconda vita. Ecco, in pieno lockdown, qui stiamo parlando di anni che furono, non c'era ancora Facebook per dirci, ok, in pieno lockdown Second Life ci riprova. La domanda che ci facciamo oggi è, c'è ancora speranza? Second Life, ovvero l'azienda Linden Lab, ha preso la palla al balzo e in questo articolo nuovo di Mashable Italia, vedete me lo linko chiaramente nei commenti, ha preso la palla al balzo e ha rilanciato la piazza più famosa degli anni 2000, o meglio, dei inizi anni 2000, insomma. Il fine è chiaramente di sfruttare questo momento, questo moderno e triste lockdown a livello globale e chiaramente, visto che distanziamento sociale, organizzazioni diversificate in giro, remote working, vi dicendo, di portare fondamentalmente la piattaforma che cerca, a differenza dei social più tradizionali, chiamiamoli così, bidimensionali, offre un pochettino di organicità in più, un po' più di 3D. I più attenti sanno che Second Life, dopo un iniziale grande entusiasmo, ha avuto vita breve, ma è stato rilanciato nel 2003 con i mondi virtuali 3D, ma anche lì dopo un po' fondamentalmente la vita è finita. Di fatto, fondamentalmente, se ci pensate bene, la vita di Second Life non è diventata obsoleta, ovvero c'è un'altra tecnologia che lo fa meglio, però a differenza di Oculus Rift o altri fondamentalmente, dove tu hai bisogno di un visore, poi anche lì c'è ancora questa latenza tra il nostro sentimento, il nostro sentimento, la nostra sensazione e quella che è l'esperienza, ce lo puoi fare per 10 minuti, mezz'ora, un'ora, non lo diventi scemo. Invece, con Second Life, monitor 2D fondamentalmente, con immagini 3D, quindi più sopportabile. Ma perché? Qual è il focus principale di questo rilancio, visto dopo due tentativi andati a vuoto, appunto, di Second Life? Beh, è chiaramente quello del mondo lavorativo, infatti se andate sul sito dell'attuale Second Life, www.connect.secondlife.com, vedrete che l'inizio del sito, insomma, la sua comunicazione è principalmente sul mondo del business, cioè sul mondo del lavoro remotato. Per le aziende, è vero, abbiamo Zoom, abbiamo diverse strumentazioni, Teams, Microsoft, Hangout per Google, eccetera, eccetera, ma, ma qui si cerca, o meglio, il fondatore cerca di ribaltare le nuove situazioni, di cercare di riportarsi sulla cresta dell'onda, su, insomma, il tetto del mondo, mi verrebbe da dire. Ce la farà, ci piacerà, io ho paura che non siamo più ormai innamorati degli avatar, innamorati, anzi, tra l'altro su tutti i social ormai ci chiamiamo nome e cognome, quasi tutti, però è vero che ogni tanto, per esempio per Instagram, tanti utilizzano un nickname, quindi magari l'alter ego digitale o virtuale, quello senza la pancia, un po' gli emoticon, gli emoji, anche di quello che accade su Apple, dove c'è stato un tentativo di rimettere un emoji, insomma, tutti questi tentativi che io paralizzo di rimuovere la pancia, dico, attraggono ancora, piacciono ancora, però poi non sfondano mai, non arrivano mai dalla vita virtuale, dalla vita, diciamo così, secondaria, alla vita primaria, quella reale. Staremo a vedere quello che accade, mandate sul sito, studiatevi anche questo rilancio, potrebbe essere interessante per trarre qualche insegnamento, soprattutto di start-up che in questa maniera sicuramente pivotivano tantissimo, cambiano, si cambiano di pelle molte volte. Che brutta roba la start-up di merda che ho appena detto. Io vi auguro una fantastica giornata, appunto, se volete ascoltare start-up di merda, www.marioboroni.it e vi iscrivete gratuitamente. E vi arriva l'audiolibro, ragazzi, buona settimana, fate i bravi, ci sentiamo come sempre, lunedì e venerdì, 7.30, qui per il caffettino, nella vita reale però. Ciao!